Il comparto della cooperazione agrigentiene è a rischio. Alla fragilità economica dell'ultimo periodo si aggiunge un'impennata dei costi derivanti dall'energia. Una situazione drammatica generalizzata che con l'autunno metterà a rischio di chiusura molte realtà indispensabili, con un'enorme perdita dal punto di vista umano, solidale ed economico per il territorio provinciale. Il grido d'allarma arriva oggi dal presidente di Conf Cooperative di Agrigento, Antonio Matina. Il settore dei servizi rappresenta quello più vulnerabile, dichiara l'esponente di Conf Cooperative, che evidenzia come il recente via libera contenente le richieste di misure di sostegno del terzo settore e delle realtà no profit contro il caro bollette, sia un fatto importante ma sicuramente non risolutivo per le cooperative agrigentine. Il caro energia, aggiunge il presidente Matina, rischia di essere il colpo di grazia, soprattutto per quelle realtà che non possono modulare cicli produttivi perché legati a fattori naturali come l'agroalimentare o per tutti quei servizi ritenuti essenziali. Conf Cooperative della provincia di Agrigento annuncia che chiederà un incontro con il prefetto Maria Rita Cocciufa per rappresentare lo stato di emergenza che sta dilaniando il territorio agrigentino, già provato da numerose difficoltà socio-economiche, e dove il comparto cooperativo ha un peso rilevante in termini economico-occupazionali. Continueremo a chiedere, conclude il presidente, che a livello regionale e nazionale vengono messi in atto interventi immediati, ma che il sistema bancario dia anche liquidità di sostegno alle imprese, con una durata ragionevole di pre-ammortamento del tempo utile al ripristino delle condizioni accettabili, se non ordinarie, del costo dell'energia.